Musica Questa gara si chiama Biglia e rallentatore invita i partecipanti a costruire un percorso che permette alla biglia di scendere più lentamente possibile Ci ritroviamo presso Casafrau appunto con un laboratorio dei 10 lab di Sardegna Ricerche è un luogo dove sperimentare direttamente i fenomeni scientifici e i progetti creativi di innovazione Questa iniziativa è molto interessante interessante perché Pula, essendo un paese turistico ma con molteplici interessi e avendo la fortuna di avere un parco tecnologico così vicino con Sardegna Ricerche si intende praticamente ovviamente promuovere la cultura in quanto la ricerca è ovviamente per antronomasia cultura avvicinandola a tutti Musica